voce regia magdalena project bellezza allora per bellezza ti vorrei proporre una frase di camus l'artista si forgia in questo andirivieni perpetuo da sé agli altri a mezza strada dalla bellezza di cui non può fare a meno e dalla comunità alla quale non può strapparsi ecco perché i veri artisti non disprezzano nulla essi si obbligano a capire invece di giudicare bellezza ho intitolato uno dei festival transit che è il festival di donne in teatro contemporaneo la bellezza come arma beauty as a weapon una specie di lotta fra una memoria che va totalmente da sola libera è una memoria nuova che l'eco cioè quello che ti torna dai muri dalle montagne è la tua voce non qualcosa che esce da te ma come torna da te collegare questo al centro alla spina dorsale è quello che unisce l'organico il vivo con il credibile la spina dorsale è quella che mi garantisce l'azione la spina dorsale è quella che mi garantisce l'azione